Attenzione abbiamo già un prototipo qua, ci racconti del prototipo? Allora sto lavorando con trek per fare una bici nera, tutta nera. Attenzione. Se avete bisogno di un carrozziere comprate questi. Cosa è successo? Mi dica. Ho grattato sulla neve. Ciao ragazzi. Siamo qui a San Romolo a fare dei test? No, siamo all'Ariston tra poco, andiamo a fare Sanremo a 2.0. Prima discesa prendiamocela con calma. Grazie a tutti. 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 Vai, 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 vai. E niente dopo strani, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Oh, è vero. Oh, è vero. Saltare qui è morto. Oh, ha fatto tipo 180 come Cade. Oh, è vero. 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 E' vero. E' vero. E' vero. E' vero. E' vero. E' vero. Ma sei un bambino. Che bravo. Ce l'ho fatta. Sì. Vai, Fran. In ogni caso sei ripreso. Che bravo. Mi si è rotto uno stufo. Uno? Mi si è rotto uno stufo. Oh, no. Sì. Esatto, perciò lo fate. Oh. E' uno guardando. Oh, siete! Oh, no. Oh, no. Oh, no. Eh, mamma. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no, no. Oh, no. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti